buongiorno un sabato mi aspetto qui col caffè credo che ne avrò bisogno per fare un po di bustine poi la parte divertente sarà decorarla adesso cerchiamo di fare la parte precisa in cui devo fare le bustine buongiorno eccoci qua buongiorno ben arrivate buon sabato io ho passato la mattina a fare gli ordini per la nuova release adesso mi fermo tutto ciò che non è stato lavorato oggi verrà lavorato poi lunedì ma ne ho fatti già un po insomma buongiorno eccovi qua oggi qui una bella giornata non fa tanto caldo quindi si sta bene buongiorno oggi facciamo un po di bustine da mettere nei pacchetti madre non ha ancora finito di mettere tutte le zucchette perché le centellina vabbè buongiorno eccovi qui allora sono molto contenta che la collezione vi sia piaciuta mi state scrivendo in tante sono felice oggi proviamo a fare delle bustine ero tentata di prendere tutti gli abbellimenti poi detto vabbè cediamoci un contegno un minimo utilizzeremo la gift bag punch board ho guardato un tutorial perché non mi ricordavo più di preciso come usarla ma in realtà è facilissima faremo la bustina piccola qui comunque trovate tutte le indicazioni del dei tagli da fare in caso vogliate fare le tre misure per quella piccola dobbiamo tagliare una striscia da dieci pollici e l'altezza la decidiamo la decidiamo noi le farò piccine farò quelle piccole potrei anche fare quelle medie in realtà altre dieci centimetri ne facciamo una e vediamo se ci piace poi ne faccio in serie ne facciamo boh sei o sette vediamo buongiorno è arrivata adesso la notifica di ferma allora anche qui stamattina era buissimo quando mi sono svegliata alle sette sembravano le cinque di mattina tanto era buio e invece poi adesso si è rischiarato insomma è bello novembre noi ci portiamo avanti perché tanto l'autunno ci piace cosa dobbiamo fare buongiorno vi ancora recupero la diretta di ieri tanto rimangono lì per fortuna una certezza abbiamo che i live rimangono lì buongiorno allora ma qua oggi c'è un bel sole sono uscita prima per andare a fare shopping in farmacia mi sono svegliata stamattina con un dolore alle ginocchia senza senso l'età la catorcitudine e qui c'è un bellissimo sole non fa caldo si sta bene maniche corte fuori quindi insomma questo qui è un po la temperatura mi piace potrei firmare buongiorno allora beviamoci questo caffè così magari mi sveglio un po dopo pranzo un po di fiacca ce l'abbiamo sempre buongiorno allora beviamo il caffè così sposto la tazzina in un luogo in cui non possa fare danni ci provo almeno buongiorno claudia non è in montagna starai starai viaggiando buongiorno ne ho fatto un litro di caffè perché quella tazzina sembra sembra piccina in realtà è profonda allora io ho preso ho preso allora delle carte mi manca la fustella di moda scrap che è qua il rettangolo ho preso rettangoli cerchi adesso poi vediamo ma credo di usare tutte e due per fare quello che ho in mente togliamo via un po di menta da qua allora ho preso due fustelle basiche di moda scrap di quelle nuove ho preso delle carte della nuova collezione ovviamente ho preso tre pat tre basic sono la 1 la 5 la 6 queste tre e ho preso queste due che sono la 10 e la 5 no io non disegno niente rossella ti pare non so scrivere gli appunti compro delle grafiche le assemblo le le rendo le uniforme insomma le rendo poi quelle che diventano le mie le mie collezioni ho preso il foglio di di sticker ho preso gli efemera i chipboard sono tentata di usare anche anche i o mamma gli epoxy vediamo e ho messo anche i puffy stickers la spostatezza seconda dose madosca io volevo dormire sempre dopo la seconda dose del vaccino dormire 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 ho passato quel giorno lì veramente a far fatica a tenere gli occhi aperti ma vabbè allora iniziamo a provare a fare una scatolina un sacchettino in realtà allora utilizzeremo la punch board adesso le ho finite perché ieri hanno comprato le ultime ma le ho già riordinate quindi poi in settimana in settimana arriveranno non ho più stranamente il libretto di istruzioni o se ce l'ho chissà dov'è però in realtà qui ci sono le misure con cui fare i tagli se vogliamo fare la bustina più piccola ci serve una striscia di 10 pollici la media da 11 e la grande da 12 pollici l'altezza la decidiamo noi se non ricordo male almeno 10 centimetri e poi che fai non li usi gli epoxy poi cosa fai le paillette non le prendi luosci gli enamel diventa difficile io le vorrei fare piccoline in realtà forse mi conviene fare la misura m sì dai facciamo la m allora facciamo una prova togliamo innanzitutto la cimosa dalla carta poi ne tagliamo una striscia decidiamo subito l'altezza prendo tutto sì ne tagliamo una striscia allora per la m sono 11 pollici tenete presente che la m dovrebbe avere se non ricordo male il lato da 7 la base da 7 centimetri e mezzo diciamo che io la voglio fare alta 10 centimetri 4 pollici forse un po poco facciamo allora facciamo una facciamo una prova la facciamo a 15 anche se in realtà così mi vengono solo due bustine vediamo facciamo una prova 15 quindi a 11 pollici tagliamo a 15 centimetri facciamo 11 pollici per 6 questo è il ritaglio che mi occorre ho tanti auguri asia questo è il ritaglio che mi occorre per fare la bustina media non sono sicura di volerla lasciare così alta però proviamo non mi ricordo più le altre volte che ho fatto queste queste bustine con la con la con la con la con la borde come 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 il risultato quindi provo con la media se poi mi sembra troppo grande per quello che ho in mente per il risultato che ho in mente passo quella piccola allora ci allineiamo qua qua con questa riga qua che la start line finisci finisco non è tanto felice no hai ragione allora facciamo la prima punciata poi dobbiamo tenere conto che voglio fare la media la media quindi adesso allineo aspettate che mi sono già dimenticata uno e poi ah beh devo fare la piega cretina side facciamo la piega qui scusate ma sono veramente arroginita m la mia carta è un po più spessa quindi dove potete insomma pigiare bene poi alleniamo questo che è la piega si dovrebbe vedersi qui facciamo una punciata facciamo la riga qui su side perché questo è il lato facciamo la piega qui sulla parte orizzontale e intorno al nostro triangolo questo è il soffietto del sacchettino dopodiché allineiamo questa riga qui su side rifacciamo su m perché è la misura che ho scelto rifacciamo questa parte qui e andiamo oltre riportiamo questa qui in realtà è estremamente meccanica è molto semplice da fare cioè è per quello che ho pensato di farne 7-8 magari se facessi le punciate aspettate che bisogna essere così magari se mi ricordassi di fare le punciate così e poi ci manca anche questa faccio solo le pieghe io così sono anarchica ok ok e questo è la base della nostra bustina adesso dobbiamo togliere questo con le forbicine semplicemente questo qui è la linguetta che ci permetterà di incollare la nostra scatolina io ho usato la mia carta che è molto spessa se usate un bazzi se usate una carta più sottile o peggio ancora se cercate di usare un vellum o un acetato fate attenzione perché bisogna essere estremamente delicati vediamo se come misura può andare o se è il caso di farla più piccina di fare la misura prima che è la S qui dobbiamo piegare prima qua e poi vedete che in pratica la piega si forma da sola a invito sul triangolino questo qui è il soffietto della nostra bustina voilà ok praticamente una volta assemblata la bustina sarà così questo sarà incollato qui così e queste saranno le alette sotto la bustina sarà così io terrei la media e anche in realtà come altezza non è male allora c'è un'altra cosa che possiamo fare per chiuderla potremmo mettere un velcrino potremmo fare una patellina potremmo fare tante cose potremmo anche solo tagliare una striscetta di carta forare da qui e qua e usare un brad mettere una calamita mettere un velcrino tantissime idee no? qui dietro se allineiamo qua in realtà è da allineare qua la prima sul lato qua dovrebbe essere così se ce la faccio a punciare bisogna essere vicini no? scusate cos'hai che ti blocca ragazzi l'ho intruppata ma davvero? no? sei seria? no? ok scusate la misura più grande la M ha un foglio da 12 guardate adesso ve lo dico ha un foglio da 12 pollici come lunghezza ma in realtà il lato che cretinetta che sono si misura qua se la M è circa un 7,5 o 8 la L è circa un 9,5 mentre la piccola è circa un 7 di lato la profondità del soffietto è sempre più o meno 5, qualcosa allora riproviamo qui dietro adesso che abbiamo sbloccato la situation perché non l'abbiamo sbloccata perché? ah no è solo molto dura ok qui è solo molto dura ok e qui oppure sono io che sono particolarmente cretina perché io pigiavo qua ma bisogna pigiare qua per il forellino allora questi forellini qua ci permettono di chiudere me ne manca uno qui adesso lo faccio dovrebbe essere sufficiente sì allora posto che qua chiuderemo la nostra scatolina così io metterò un pezzettino di spago che passa qui e il forellino mi permetterà di tenerla chiusa poi se volendo se avete un punch non particolarmente profondo oppure si può fare prima questo lavoro si può usare un border punch per punchare tutto il bordo per esempio con quello zigzag o l'erbetta o anche solo un semplice scallop è comunque bellissimo e si può smerlare il bordo che è una cosa molto carina e poi si può chiudere in un altro modo o si può poi allineare con un pochino di astuzia diciamo di modo da fare comunque i fori nella postazione corretta tenete presente che non c'è tantissimo spazio da qui a qui quindi se usate un border punch tipo che cos'ho qua adesso adesso ho questo è caduto di tutto vi mangia via più dello spazio che avete a disposizione qua guardate però vedete ve lo mangia via quindi bisognerebbe prima punchare e poi cercare di allineare sfruttando quanto più possibile i punti alti di quello che avete punchato cercandolo di allineare sulla plafond in modo da fare i forellini è un po' complesso io non credo che sarei in grado di coordinarmi fino a quel punto però si potrebbe fare allora chiudiamo questa per prima cosa poi così se mi piace come misura se decido che va bene l'altezza e quant'altro la manteniamo e taglio tutte le altre così ce le ho tutte tagliate le assembliamo e poi iniziamo la parte divertente che è quella di decorazione questa la incolleremo così e questa si chiuderà poi così vedete è deliziosa un bonbon una caramella qualsiasi cosa un regalino quella più piccola dunque tu sei 8 cm quella più piccola è circa 7 cm l'altra un pochino più di 9 quindi direi che va bene potremmo anche farle più piccoline le altre però 7 cm ma no teniamo questa allora questa la facciamo che chiuderla già adesso vi dicevo prendiamo il nostro biadesivo ho girato ho girato l'accrocchio del telefono in una maniera strana ok è l'aspettatrice oggi Mariella voilà allora mettiamo il biadesivo qui poi queste alette qui più corte io le metterò sotto quindi metterò un po' di biadesivo qui credo che basti e su una delle due alette più grandi queste andranno sotto così e qui avrò bisogno del biadesivo da questo lato allora spellicoliamo tutto vediamo poi quante farne queste finiranno vi dicevo nei pacchi una magari me la tengo come ricordo ma ok allora anche questo devo spellicolare io la 1 2 3 punch board dipende se nessuno mi guarda se devo fare sempre la stessa cosa dopo un po' apprendo si possono fare diverse cose io adesso ho guardato il video solo per questa però ho letto e di solito con queste scatoline poi ci sono sempre modi e trucchetti per fare tante altre cose io oggi farò solo le bustine vedete l'idea è poi di prendere un pezzettino di spago cioè il look finale che vorrei che avessero va bene lo spago va bene il nastrino quello che vi piace o se volete basta mettere un velcrino una calamita ci sono mille modi di chiudere le scatoline insomma questo in realtà è perché ho rivisto questo spago marrone che ho detto vabbè è perfetto è assolutissimamente perfetto si è anche un po' sfilacciato ma fa solo distra fa vintage allora ci serve un po' più lungo il pezzettino adesso poi lo ritaglio però per darvi l'idea questo poi si chiude si stringe qui se avessimo lo spazio per legarlo bene l'effetto sarebbe questo poi lo ritaglio queste scatoline con la 1,2,3 non credo semplicemente perché o magari c'è il modo di ingegnarsi però bisogna poter fare questo angolo qui si può fare con uno scoring board normale io a volte le ho fatte a mano e il triangolino lo faccio a mano con la taglierina tutto si può fare senza le punch board è ovvio che con la punch board specifica il tutto viene un pochino più facile e per geni come me un po' più preciso allora tagliamoci intanto la carta che ci occorre mettiamo via questo il bioadesivo ci servirà poi allora abbiamo detto 11 pollici e la lunghezza per fare la scatolina media e direi che la scatolina media va bene a questo punto per ottimizzare la carta io ne faccio venire fuori due da ogni foglio quindi faccio che prendere il secondo di quello lì poi usiamo questa carta qui che è la 5 allora io lo sapete che non sono particolarmente precisa quindi quando si tratta di fare pieghe pieghette cos'è il rischio è che non mi vengano bene come dire allora questa va tagliata con un certo senso allora che questo è un verso se c'è la germana che mi guarda poi mi sgrida aspettate 11 pollici va tagliata così 11 perché sarà questa la fascia e poi la taglio a 6 pollici a 6 pollici domani farò il mini penso con con il con il binder di Tommaso penso che farò quello non ci ho riflettuto tantissimo stanotte allora prendiamo ancora questa e ne facciamo una in tinta unita qui sono un po' più tranquilla tagliamo 11 e sono serena 11 e poi 6 e 6 così me ne vengono 6 praticamente ho altre due carte che in realtà stavo pensando di utilizzare per peraltro però potrei potrei prendere quella marrone scuro e usarla e usarlo stesso quella un po' più chiara oppure prendere un'altra patterned che dite per farne almeno 8 i punch salvano la vita sì tantissime volte a parte quando ne ordini 120 della misura sbagliata in quel caso lì allora facciamola da qui intanto in quel caso lì proprio proprio la furbizia i pacchettini di Natale questa io ci ho fatto tantissime buste ma da quando hanno fatto la 1 2 3 punch board rispetto alla envelope punch board io se uso una poi non so più usare l'altra e viceversa è un disastro quando facevo i corsi se le avevo tutte e due sul tavolo per avere quanti più tool possibili il disastro non sapevo più spiegare perché cambia un pochino il meccanismo e io ciao proprio non si può allora queste strisce scure in realtà le avevo pensate per fare una cosa perché sarebbe molto carino farle girare qui intorno o anche qui sopra io adesso qui ho già fatto il foro quindi ovviamente magari no adesso vediamo però si potrebbero punchare decisamente più facilmente quelle che non quelle sopra perché così non avete il problema di dovervi allineare in maniera particolarmente fantasiosa per fare i fori e il modo in realtà guardate se adesso io questa la volessi usare noi sappiamo che è 11 che cosa devo fare semplicemente prendo la mia borde e faccio le pieghe guardate non devo fare non faccio le pieghe cioè cerco di fare le pieghe in questo modo qui ovviamente allora M poi la lineo qui non posso posarla in là ma a me serve solo avere un riferimento quindi in realtà è abbastanza va bene anche così così poi questo lo mettiamo qui e facciamo di nuovo M questo lo rimettiamo qui e facciamo side questo non ci servirà ma io potrei fare questo devo fare anche la piega scusate ho dimenticato giustamente serve anche questa piega qua se no questa dovrebbe essere sufficiente vediamo se no si segna anche un pochino quella del triangolo così una sì se facciamo anche il triangolo rimane un pochino meglio quindi bisognerebbe fare questa robina qua voi dite è più complicato sì però è tanto carino e qui ho sbagliato a fare il segno vero uno sì qua ho sbagliato a fare il segno ragazzi vabbè ma tanto era un esempio non voleva essere particolarmente indicativo qua e questo qui e in questo lato qui bisognava fare questo e questo qua mini tag posto in più per un appiccichino gli appiccichini stanno bene sempre io adesso questo l'ho rovinato però vedete ah e l'ho fatto au contraire ah giusto andrebbe si andrebbero fatti al contraire vabbè sapete che la pianificazione non è esattamente il mio forte ma se avessi fatto i segni del triangolo nel modo giusto cioè al contrario questo sarebbe perfetto vedete che si si piega con la carta ti lascia vanno fatti i segni del triangolo girando la carta così che ovviamente segue bene la piega di quella che è la scatolina allora facciamo intanto le nostre le nostre scatoline io ho qui le mie altre sette carte tagliate e sto usando la misura media allora spingiamo qui fino in fondo perché guardate che c'è tutto questo pezzo qua in cui entra quindi ci allineiamo lì punciata m e questo pezzo qui sopra ci spostiamo facciamo il side ops il side questo 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 e questo e poi ci magari punciamo mi dimentico sempre ok poi qui facciamo subito per fare la punciata e qui qui abbiamo m e l'ho incastrata la mia carta è un po' spessa mi stai dicendo questo anche bianca sta bene però secondo me se la fate colorata va un pochino più contrasto l'ho intruppata veramente se si è intruppata non posso più finire il live allora non guardate questo metodo drastico io di solito la sbatto contro il tavolo in genere funziona ok la mia carta è un po' spessina vabbè fa niente non fatelo di sbatterla contro il tavolo io lo faccio per emergenza se di emergenza si può parlare è così e ho dimenticato di fare questo pezzettino qui guardate questo pezzo presa dal panico e mi manca ancora la punciatina qua ok e la lasciamo qui poi facciamo questa da questo lato è perfetta mi sposto solo un po' in giù M ci spostiamo facciamo questo in pratica alterniamo una volta la misura della busta una volta il lato e magari punciamo questa cosa che devo punciare tutte le volte non mi entra ok qui così sono esattamente il contrario hai ragione pazienza pazienza l'altra la faccio giusta hai ragione però sì sono assolutamente al contrario e mi frega lavorare da questo non ditelo alla germana non glielo dite fa niente li copro i cerbiatti sì lo so sono al contrario non è successo niente l'altro lo faccio sono tutte e due al contrario vabbè pazienza doesn't matter questo non ho possibilità di sbagliarlo vabbè e per quanto ci provi non ce la posso proprio fare no 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 vabbè è stato bello almeno pensare di farle dritte quei due minuti in cui è durato il pensiero di farle dritte vabbè e niente la mia punch board ci sta dicendo silenziosamente che è arrivato il momento di cambiarla qui adesso tu sei di nuovo M e qui abbiamo di nuovo il side così e l'ultima punchata qui per la nostra ultima aletta appiccichino sogno cervo certo eh non c'è meglio dire poi M questo colore qua io lo trovo meraviglioso così la prossima volta qua mi sembra un ottimo suggerimento sì sì uh mamma come mi è sfuggita così copriamo copriamo tanto avevo già in mente di metterci sopra una delle fustellate di moda scrap quindi insomma di necessità virtù eh lo volevo proprio così il prossimo timbrino regalo lo volevo esattamente così poi una cosa che vi consiglio di fare è togliere il residuo che avete sotto perché a volte nel mio caso la carta è spessa quindi fa un pochino fatica per quello però non aiuta credo di aver dimenticato una linea orizzontale nell'ultima adesso la vado poi ho sbagliato questo è sbagliato questo lo dobbiamo rifare completamente mi sono distratta pensando infatti che non avevo fatto questa e ho fatto pasticci adesso prendiamo un altro foglio e la ritagliamo di nuovo il cervifano tacoon certo ho sbagliato ad allinearla adesso rimediamo non vi preoccupate M allineiamo qui punciata side poi punciata e l'ultima punciata side e chiudiamo qua fa tre misure di bustina si ti dà le indicazioni per tre misure diverse di bustina per una ti serve una striscia lunga 10 pollici per una 11 per una 12 piccola media grande me ne manca ancora una ah è qua è qua devo poi riprendere quella marroncina perché ho fatto disastro l'altezza la decidete voi io ho deciso sei pollici ma si potrebbero fare anche più piccine o anche più alte la mia carta ragazze è spessa bisogna proprio saltarci un po' su qui poi abbiamo qua side questo è il lato così M guardate che qua non ho fatto questa riga qui ok abbiamo un altro lato e l'ultima punciata per chiudere l'aletta ok allora vado a prendere una forse ce l'ho qua in realtà uno di quei fogli lo prendiamo riprendiamo il marroncino perché me ne manca una o se no facciamola dall'altro marrone facciamola dall'altro marrone così non devo scavalcare i pacchi che sono fermi qua allora dunque 6 pollici che è l'altezza la striscia ci serve lunga 11 pollici per fare la bustina media qui m poi ci allineiamo qui side questo è il lato a soffietto lo ripeto ad alta voce perché così magari poi se faccio anche queste righe qua però voilà poi ci allineiamo qui e qui andiamo su m perché è l'altro lato adesso abbiamo ancora un voilà side ci manca l'ultima punciata e poi facciamo i forellini ok adesso questi li togliamo ok allora adesso facciamo i forellini per mettere il nastrino i forellini per mettere il nastrino vanno fatti tutti su tutte le su tutte le righe bisogna premere questa parte qui su ogni riga ve ne fa due alla volta in questo modo combaciano sempre anche sull'ultima va fatto perché manca questo ovviamente adesso le facciamo su tutte così poi le possiamo ho sbagliato lì vabbè così poi le possiamo montare chiudere ci serve qua lì l'ho fatto due volte oggi ho sbagliato ok poi facciamo qui partiamo da questo poi ne saltiamo uno perché ne fa due ecco dove ho sbagliato questo non va allineato questo sì e questo sì prendiamo con questo sto facendo delle scatoline con l'ultima collezione quella che vi ho fatto vedere ieri la rainbows and clouds queste finiranno poi nei prossimi pacchi madre scegli attentamente quindi non ve ne abbiate a male ogni tanto le do le cose magari ne ho tre o quattro solo da mandare e rimangono gli giorni perché un giorno ne mette una poi mette qualcuna delle vostre card poi ne mette un'altra poi mette le vostre va così voilà 200 chili di salsa oh my goodness non riesco neanche a visionarle come quantità adesso ci salto sopra ok ok questo abbiamo fatto ciao ciao shaker sarebbe stato bello ma abbiamo deciso di no ok mi prendo solo in secondo una bottiglietta d'acqua che ho caldo aspettate eccomi eccomi ho anche attaccato l'aria perché comunque con le lampade della d'urso ora facciamo che incollarle tutte qui dobbiamo rifare questo brobrio qua mi è venuto malissimo ok allora incolliamole allora utilizziamo questa che ci serve per segnare bene le pieghe le pieghe allora ne ho fatte quindi 8 guardate la mia carta è già abbastanza spessa non serve neanche tantissimo qui dobbiamo tagliuzzare questo pezzetto qua che non ci serve anche questo si può togliere e lei sarà così e al contrario vabbè pazienza quasi quasi la do alla germana di proposito facciamo stessa cosa di qua così le prepariamo tutte facciamo come sempre un pochino di l'improduction d'altro canto siamo nella città della fiat così sì 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 questa qui l'ho lasciata ordinabile sul sito l'ho già ordinata arriva in settimana tac purtroppo è un po' aumentata nel senso che adesso tutti i brand americani hanno annunciato degli aumenti da maggio in poi abbiamo avuto tutta una serie di prodotti aumentati e ci sta la pandemia bene non fa ok facciamo anche di qua i taglietti l'idea era poi adesso aprirò bene le fustelle di moda scrap e vediamo quale si presta meglio ma in realtà potrei farne un po' un po' se si prestano bene entrambe volevo mettere sul davanti della scatolina una una cornice bianca fatta con una di con la fustella dei cerchi o con la fustella dei rettangoli su cui poi appiccicare l'appiccicabile in termini di appiccichini insomma fila come discorso questa mia carta è un 260 grammi quindi è bella spessa e questa fa così perfetto le attacco poi tutte dopo no ci metto ci metto gli appiccichini vedrai che non se ne accorgerà nessuno che al contrario a parte la germana che lo sa se sta guardando il video se guarderà il video e che quindi patirà lo stesso ma vabbè conto che mi si vorrà bene lo stesso anche questo tinta unita è bellissimo anche dalla cera molto neutro matrimoni cerimonie uno di quei bei colori pastellosi che va sempre bene ok è arrivata patrizia non guardare germana lo dico per te oppure prendi le goccine a seconda se ce l'hai a portata di mano se uno arriva adesso a guardare i nostri live mi prende per una cafona di quelle super power così e questa la giriamo indietro così perfetto sto volando qui mi manca solo lei così poi le incolliamo tutte 33 30 minuti praticamente ok vedete che qui in pratica la piega si forma da sola nel momento in cui andate a evidenziare la piega principale no ok allora iniziamo ad incollarle me le sposso tutte di qua una secca portata allora guardate in maniera molto molto semplice prendo il mio biadesivo che avevo rimesso lì no qua quanti punch sbagliati una quarantina mi sembra tra oggi e domani vi preparo la grafica gratuita per tutti quelli che hanno adottato il punch il punch sbagliato e uno qua questa qui è la media la misura che sto facendo è la media ma cambia tantissimo a seconda dell'altezza che decidete di dare alla vostra scatolina io ho deciso per 6 pollici quindi 15 cm ma potreste farla anche più piccolina o anche più alta sono molto belle anche più alte allora il primo pezzo da incollare io lo incollo così piegando la metà che sono certa che sia giusta perché è stata fatta con una board poi attacco queste poi attacco queste poi attacco queste poi da dentro faccio così e questa è a posto la forzo un pochino la misura giusta del punch da prendere Francesca dipende che cosa mi stai chiedendo quello che ho ordinato sbagliato è la medium l'altro è il large ma tanto lo vedi perché il large quello con cui sono quello con cui scusatemi ho fatto il set di timbri che uscirà è il maxi sai che non ho visto cioè dobbiamo bannare gente Simona sai che non ho mica visto se mi fate la cortesia di bannare segnalare voilà e poi mettiamo qui qui grazie io non l'ho neanche visto probabilmente avevo già bannato l'individuo eh vabbè c'è gente che purtroppo ha una vita triste che deve fare mi verrebbero in mente tante cose ma oggi mi sento un po' più principessina del solito non dico niente neanch'io ho visto niente però io sto scatolando quindi così poi pieghiamo in dentro queste due pieghiamo in dentro questa e l'aletta su cui ho messo il nastro e la scatolina è pronta vedete questo si può fare anche a mano io in qualche live l'avevo fatto a mano questo discorso qua è ovvio che è la praticità di poterlo fare non guardare la praticità di poter fare tutto con una board dove già tutto ben definito vi permette una precisione un po' diversa rispetto a quella che si avrebbe diversamente facendo facendo tutto a mano grazie grazie bannatrici mie una volta ho risposto in malo modo veramente da recruiter a qualcuno che ha fatto uno spam di non ricordo più che attività finanziaria sotto un live e ho fatto presente che se la loro strategia commerciale di comunicazione marketing sta nell'andare a spammare link in contesti del tutto poco appropriati e poco inerenti a quello che è il loro settore merceologico forse avrebbero bisogno di delle linee guida di marketing un po' più serie di rivolgersi a dei professionisti mi ha insultata per un sacco di tempo che dire laureati proprio ad Oxford quello dell'olio oh mamma mia ah ho sbagliato a letta facciamo che metterne un pezzettino anche qua e la chiudiamo così ed è perfetta vedete questa carta qui tra l'altro si presta benissimo non so io amo i rombi sapete che ho un problema ma è già un po' che lo confesso e ci penso poi io a bannare non vi preoccupate che se li vedo probabilmente se non li ho visti in realtà forse sono anche già stati in qualche modo da me segnalati poi vado a vedere un trollone un trollone mi fa tanto ridere allora attacchiamo questa una due questa qui che non ha di adesivo e questa sopra mi è passata la storia così oh questa non l'avevo piegata bene ma adesso lo aggiustiamo un briciolino così e poi ci metteremo in tacuna perfetto l'attrezzino il mio tool nuovo mi hanno detto che mi dovrebbero spedire tutto questa settimana entrante bisogna vedere quanto tempo ci mette la spedizione ma se tutto va bene secondo me per venerdì potremmo averlo un po' voglio un po' l'Olimpia brava così chiudiamo prima questa ciao chi è appena arrivata ciao sono un trollone tutto bene poi chiudiamo anche questa che è così andiamo così e anche questa è fatta più in dieci mi può essere ma è che non desidero ah questa è incollata un pochino storta ok così ma e non demordono boh vabbè poi ne abbiamo solo ancora due poi facciamo che chiuderle tutte così le tengo un attimo da parte già montate già chiuse andiamo a fare le prove con quella che sarà la cornice da metterci su e poi e poi appiccichiamo e poi appiccichiamo felici ok 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 poi queste due qui così è qui che abbiamo il biadesivo spellicoliamo ah è uscito la molla sì credo che sia rotto Erika salvo che tu non conosca qualcuno che te lo riesca a rimettere a posto perché c'è anche chi è in grado di riparare i punch not me io posso romperli il passo prima posso fare gli screenshot grazie ma va che gente così lo cerco e se non è stato ancora bannato lo banno ma sono come quelle persone che si prendono il disturbo di lasciare i commenti sgradevoli io ne ho un paio che non comprano mai da me non commentano mai ma quando ci sono commenti sgradevoli da lasciare sono sempre presenti sempre ma passi la tua vita a cercare opportunità di essere sgradevole oh che vita triste così poi abbiamo questo questo e questo qui sopra e questo qui a chiudere così con la mano poi lo rinforzo e siamo a posto ops questo non l'avevo piegato benissimo ma questo mi è venuto un pochino male questa schatolina ma adesso la aggiustiamo anche la finestrella certo guarda che ci avevo pensato è solo che poi diventava più lungo troppo materiale insomma sono tristi non hanno niente da fare boh cioè io non cancello mai nessun commento mai ho cancellato una volta un ho chiuso i commenti a un post quello del mio vaccino perché c'era chi si era preso la libertà di insultare finché insultano a me a me non frega niente ma di trattare male la gente che commenta è una cosa che la gente non dovrebbe permettersi di fare a casa degli altri ma lo fanno lo stesso allora ho chiuso i commenti ma generalmente io li lascio lì commenti sgradevoli perché tanto si commentano da soli cioè ti fai pesare per quello che sei un emerito deficiente quindi le forbici allora mettiamo il nostro nastrino diciamo che potrebbe servirne una quantità una cosa così secondo me potrebbe andare tagliamone un altro per avere l'unità di misura che poi allora vediamo questo è spago di juta è sempre incinta sono sempre parti gemellari tra l'altro quelli lì allora facciamo passare il nostro spago nastrino quello che preferite quando succede questo è veramente difficile è molto bello lo spago di juta ma se si sfibra addios facciamo così non ne perdo una perché se rimane indietro un pezzo del filo ok ok e adesso facciamo di qua la nuova collezione su questa dici meno male sono contenta se vi fa giocare ok vediamo un po' sì allora vi arriveranno vuote avevo intenzione in realtà di metterci dentro una cosina ma madre non sa più dove l'ha messa quindi che dire con la pompa di colla è vero è vero è un ottimo consiglio un tempo lo facevo anch'io ma l'avevo completamente rimossa questa cosa grazie per avercelo ricordato sì se si mette un pochino di colla vinilica sulla punta dello spago questa praticamente si plastifica e in realtà non avete più il problema che mi avete visto combattere nel senso che non si sfilaccia eccolo qua poi li accorciamo tutti bene ho anche il washi sì certo non ci ho mai pensato il washi brava va che geni le mie clienti adesso ci tagliamo gli altri pezzi di spago perché ne ho otto sto facendo delle scatoline con la nuova collezione le ho fatte tutte con la gift punch board board ogni tanto la piemontesitudine prende il sopravvento e sto usando le carte della nuova collezione e poi decorerò con piccichini della nuova collezione ovviamente che non vedevo l'ora di usare che in pratica sto usando il suo per la prima volta sono 4 5 6 ce ne serve poi ancora uno 7 e questo lo appoggiamo qua allora con la colla bisognerebbe mentre compri la tv nuova anche le manigliette ma si esatto cioè si potrebbero far uscire da qui e qui per tenerlo chiuso in realtà se voleste anche non usare non forarlo e fare una cosa io adesso le ho forate tutte e qui ovviamente adesso sono le mollettine grandi ma se avete le mollettine piccole il viola non ci azzecca niente però la chiudete anche solo con una mollettina e sono deliziose io adesso le sto chiudendo con un fiocchetto perché le faccio tutte uguali e l'avevo pensato così e va bene ma ci sono mille modi di chiuderle queste borsine qua assolutamente come vi piacciono di più la collezione di moda scrap allora ci hanno mandato tutto ieri lunedì mattina possiamo pubblicare il preordine credo che arriveranno per metà mese sarà un momento interessante quando arriveranno insieme Tommaso e moda scrap io prenderò un mese di vacanza mi trovate mi trovate da qualche altra parte addios abbandono i miei doveri da negoziante così e facciamo il fiocchettino mi piaceva lì dare il fiocchetto di spago secondo me era tanto in mood con con la collezione aspettate che non mi è venuto bene questo fiocchetto con le mollette piccole in legno ma ci sono sì esatto ci sono mille modi potreste mettere una piccola calamita insomma a totale discrezione vostra di quello che vi piace di quello che si adatta meglio al progetto che state facendo alcuni potrei anche lasciarli senza fiocchetto semplicemente con il cordino che scende che è anche molto bella poi a metà mese vi ricordo che ci sono anche i kit così per dire sarà veramente interesting vabbè speriamo che non arrivino proprio proprio tutte insieme lunedì sera presentano la nuova collezione sì esatto noi già da lunedì ci hanno detto possiamo pubblicare il preordine quindi lo troverete già da lunedì mattina ma ve lo annuncio sui soliti canali insomma sono pratica non verrà mai più nessuno ad aiutarmi per smistare diciamo che smistare i preordini è faticosetto con i nostri numeri però infatti se vedete per le mie collezioni cerco di che non hanno gli stessi risultati di vendita ovviamente di Tommaso e Moda Scrap però cerco laddove è possibile di farvi vedere tutto quando ho già tutto in casa per una questione di sopravvivenza una questione di sopravvivenza ecco se poi cerchi di arrotolare lo spago nel senso sbagliato mi mette nel cuo meno male tra un po' vedrete gli annunci c'è desiattività io tengo solo la parte dei live chi vuole chi vuole mettersi a fare gli ordini al posto mio l'ho vista non posso dire niente sì abbiamo ci hanno avvisato abbiamo visto le anteprime insomma sì preparatevi goccine poi a metà mese c'è anche Tommaso che ne presenta un altro pezzo no no ma tutto bene ok questo mi è venuto proprio un po' maluccio questo fiocchetto poi lo fissiamo con un pochino di colla moda scrap si potrà ordinare fino a quando non arrivano i prodotti e quindi non sarà più un preordine ma saranno prodotti che ciclicamente saranno presenti in negozio non lo chiudiamo ovviamente a seconda dei numeri di ordinativi io farò gli ordini mano a mano così come sto facendo con Tommaso di modo da non rischiare di far rimanere senza nessuno le bustine le ho fatte con la gift punch board che è una delle tavolette della We Are Memory Keepers che in 448 vi fa fare tre misure di bustine è molto carina è facile da usare fa un pochino più di fatica forse sulla mia carta ma tutto sommato il risultato direi che è ottimo va solo pulito spesso l'ingombro che si crea sotto con i ritagli quelle punciate ah beh sì me ne servivano non più di questi la carta mi si riapre potrei ordinare lo stesso se no usa il pagamento concordato non ci sono problemi l'aria il ponte sta diventando un ponte formato comunità praticamente il nostro voilà così che avrei potuto metterlo bianco ma la schiariamo un po' con la cornice questa vedrete scusate se vado in fondo ma mi serve appoggiarmi per annodarlo se no non riesco ok e poi gli diamo una forma un pochino più aggraziata così questa il ponte di broccolino dimmi che è il correttore ti prego sta morendo da rite il T9 ci ci tiene al nostro buon umore ok e questo stai smontando questo ma poi ti servirà veramente quel punch se non riesci a ripararlo potrai farne a meno forse per far posto alle cose nuove non so io ogni tanto mi faccio anche questi ragionamenti ok mi serve ancora un pezzettino di di spago perché mi era rimasta la scatolina su cui avevo sostituito il filo perché mi era venuta male paghi quando vuoi quando allora si può pagare una volta che l'ordine viene lavorato quindi è che si è messo in preordine in attesa di pagamento o altro ma puoi pagarlo quando vuoi nel senso quando vuoi c'è per mano entro un limite di tempo ragionevole ecco fortunatamente non mi capita spesso di dover inseguire le persone per i pagamenti non più chi si ricorda di me quando avevo il negozio sulla pagina facebook ogni tanto sbroccavo male diciamo così ma adesso è tutto molto molto tranquillo così e così ah il punch delle tag si si quello ti serve erica si quello si ok adesso poi li allineiamo tutti ok beviamo un goccio d'acqua dunque allora quello che vorrei fare adesso devo fare due prove qua l'avevo tagliato allora vorrei fare due prove ho preso qui la fustella dei frames rettangles di moda scrap e ho i bubble circles secondo me la seconda si è perfetta bianca la attacchiamo qui io adesso ho già chiuso le bustine sono proprio furba 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 ma vabbè in qualche modo adesso le incollo oppure non me la sento di aprirle però in qualche modo facciamo se no anche il cerchio il punch svegliato ho fatto fare un set di timbri ho creato le grafiche per un set di timbri che sarà coordinato ad un punch il punch sarà questo che arriverà a giorni siccome volevo farmelo fare volevo farmi fare una tag sul mio disegno ma i minimi di ordine erano veramente esorbitanti mi sono ridirottata su un punch già esistente questo è un punch dell'avesse non di quelli indistruttibili insomma di quelli che non non si distruggono mai non hanno neanche un prezzo particolarmente esagerato quindi ho disegnato un set di timbri con sei tag ordino i timbri e ordino anche i punch 120 perché non ne ho presi neanche tantissimi grazie al cielo perché poi magari l'idea non piace il giorno dopo aver confermato entrambi gli ordini una cliente mi ordina questo punch vado a prenderlo e mi accorgo che è una misura più piccola al che si palese in me la consapevolezza che ne esistono due dimensioni di questo ah mi sono detta chissà se sono stata così accorta da controllare la dimensione che ho ordinato ovviamente la risposta è no quindi ho ordinato 120 di questi e quindi niente ho deciso che molti li hanno già adottati quel puncetto sbagliato farò delle grafiche tra oggi e domani coordinate con questa collezione gratuite da punciare con quel puncettino lì così il biadesivo è in realtà secondo me col biadesivo più o meno perché tanto dobbiamo incollare la parte intensa sono brava vero Anna Lisa potrei andare a fare altro nella vita allora tiriamo qua tiriamo fuori qua allora questo cerchio qua poi vi lamentate del mio biadesivo allora vedete questo qui è perfetto un'altra cosa che avevo pensato si potesse fare fatemi vedere questo qui grande quanto è grande era usare vedete una base così che secondo me era anche una cosa molto carina quello qual è il piccolo allora al momento è l'unico disponibile ve lo linko dopo perché adesso non mi ricordo ho rimosso chi è la cliente ma posso andarla a recuperare e il medium sapete che adesso non mi ricordo più come si chiama ci sarà il codice ovviamente no ma aspettate un attimo ne ho tanti ho scatolotti di questo puncio ovunque è il 21475 004 tra l'altro sono veramente in fingardi perché l'altro finisce sempre in 004 ma qui è 476 quindi c'è qualsiasi tipo di finezza mentali potevo cercare di mettere in atto non avrebbe funzionato allora dunque fermiamo un attimo qui queste prendiamo questa qui e anche questa prendiamo una bustina le mettiamo tutte insieme queste qua che tanto fanno parte della stessa famiglia allora la tag punch fork la possiamo mettere qua il puncettino della vergogna lo mettiamo qui hai aggiustato il punch brava chapeau allora prendiamo la big ce la mettiamo un attimo qua ok allora prendo per fare delle prove ho io sempre qua le mie basi della mia carta e adesso in un corpo solo me li taglio tutti e tre vediamo se no tutti e tre non riesco sul piano della big ma questi due più piccini sì due passaggi che così mi sfrangia già bene tutti i pallini dentro io ho otto scatoline quindi adesso vediamo come declinarli per togliere comunque il più di questi mamma mia quando me ne sono resa conto Nadia ma l'imbecillitudine che mi rappresenta boh vabbè non mi e dire che ce l'avevo in negozio questo di quest'altra misura non mi è completamente passato di mente che ci fosse di due di due misure quando ho visto quando sono andata a fare quest'ordine ho visto la misura di quello che l'ho preso per la cliente mi diceva un gocciolino di sudore sulla nuca chissà quale ho ordinato io sicuramente quello sbagliato infatti ok guardate non è meravigliosa cioè è stupenda mi piace tantissimo vediamo il cerchietto allora il cerchietto bianco così io il cerchietto lo taglierei nella carta patterned colorata perché secondo me rende un casino questi bianchi bianchi così li mettiamo qua farei così per le carte per queste qui che sono state fatte nella tinta unita li facciamo bianchi adesso proviamo anche questo qua e sull'altra potremmo farlo bianco no lo farei lo farei col bordino scuro quindi fustelliamo tutto l'elemento nello scuro e poi ci facciamo la parte interna a mano bianca adesso vi faccio vedere perché sto straparlando questo qui ovviamente è troppo grande ma l'idea che avevo che secondo me poteva essere bellina era di fare questo di tagliare vedete in modo che arrivi qua una cosa così vi fa una bustina super super carina secondo me molto elegante oppure si potrebbe fare con questo più piccolo che forse ha più senso qui in basso si forse ha più senso lui perché non c'è una misura intermedia quindi una volta che noi tagliamo guardate ritaglio un attimo questo bianco quindi sto usando quello più piccolo di nuovo aspettate ci sta qui no prendiamo un altro pezzetto di bianco e lo tagliamo e lo tagliamo a tema bimbi c'è qualcosa di moda scrap se non sbaglio a tema bimbi in italiano secondo me c'è solo moda scrap sai adesso sto facendo mentre locale perché Tommaso non ha fatto nulla beh c'è qualcosina forse della coppia creativa che puoi riadattare perché secondo me a tema bimbi di timbro non c'è nulla neanche della coppia creativa è un'industria giovane quella delle cose in italiano quindi non copre tantissimo ok guardate questo gli tagliamo un pezzettino così gli possiamo mettere anche una striscia qua ed è perfetto ora queste ne abbiamo tre ne ho altre ah no ne ho ancora una che deve essere tagliata così e possiamo usare uno due e a questo punto mi taglio un altro uno due tre uno due tre me ne serve ancora uno tagliamo un quadratino un rettangolino bianco ci sono i miei timbri delle collezioni baby del tesoro più prezioso e del di tutti i tuoi sogni però lei mi diceva oltre i tuoi quindi c'è moda scrap che ha fatto qualcosa Tommaso non ha ancora fatto niente non capisco come mai prima o poi qualcosa secondo me riadattabile assolutamente della copertetta voilà sono carine ne ne così questo questo qui si è il tool and one è una spazzolina uno scovolino che è fondamentale per togliere velocemente i pezzettini io vi raccomando con bordure di questo tipo a parte spargere neve come sto facendo io adesso in ogni dove di fare due passaggi questo fa sì che il taglio sia fatto bene e vi sia molto più semplice la procedura del togliere i pezzettini dalla fustella a parte il discorso dell'incastro queste li teniamo qui adesso ce ne servono ne abbiamo fatte quattro quindi ne abbiamo altre quattro uno, due, tre quattro allora guardate io ho in mente di fare questo prendiamo questo stesso colore cioè questa stessa fustella e la fustelliamo nella carta colorata io ne avevo un avanzo qua ho solo questa marrone ma è il colore della collezione quindi andrà benissimo gli togliamo la cimosa che così passa ma in italiano piateca davvero si è fatto qualcosa in italiano piateca chiedovenia non non ne avevo percezione tagliamo questi due qui c'è un po' di due passaggi sperando che non mi si sia spostata la fustella se no rifacciamo e infatti il cerchio si è spostato vabbè adesso lo ritagliamo di nuovo ok quindi tagliamo un altro cerchietto un altro rettangolino vedete che mi si è spostato è venuto proprio una schifezzuola ma lo rifacciamo qua i punch possono essere bastergini però la velocità del punch a volte io la prediligo sulla fustella quando posso perché se devi farne tanti per tipo è un salvavita enorme ok ha nevicato sì sì adesso raccolgo tutto tu non te ne vuoi andare ok ok taglio ancora un altro rettangolino va sì così ottimizzo anche la carta ops ho dato una piattata al telefono ok ok allora aspettate che dovremmo essere a posto con il numero di tagli quindi sposto un secondo alla gig così posso pulire queste due intanto le mettiamo qui insieme a tutte le altre fustelle così le prima poi mi prenderò anche i quadrati così ah in realtà potrei aver bisogno di fustellare ancora il cerchio adesso vi faccio vedere che cosa ho in mente allora intanto raccogliamo la nevicata di agosto che si è palesata qua ne è ovunque ti sento Germana no shaker questi paradiso ritagli eh destinazione paradiso ok allora per questi qui più scuri l'idea sarebbe di mettere innanzitutto su quelli che hanno le carte patterned e adesso mi taglierei per questo secondo me lo possiamo ritagliare tranquillamente a mano ma adesso facciamo la prova mentre per quanto riguarda i due cerchi cerchiamo una fustellina che possa andare bene perché altrimenti è un disastro cioè il cerchio a mano non ci provo neanche non ci provo neanche allora quanto mi sei larga tu fammi vedere l'ingombro qui è di circa secondo me se faccio un 4,5 per 7,5 dovrebbe andare bene facciamo una prova 7,5 per 4,5 e noi lo andiamo a mettere ed è molto è bellissimo mi piace tantissimo sì me ne serve ancora uno 4,5 mentre per il cerchio chiaramente dobbiamo agire in un altro modo però forse me ne manca uno vero 1,2,3 4,5 il cerchio ne ho solo uno di questo qua piccolo andiamo a vedere se tra le fustelle di moda scrap della coppia creativa abbiamo un cerchietto che possa andare bene come dimensione questo qui è circa un 7,5 circa di diametro allora io ho rimesso a posto le fustelle le basic dei nostri amici moda scrap Tommaso ce le ho qua vediamo se no guardate allora ho anche questo di Tally qui ho anche i dashing quelli di Tommaso non sono ancora usciti se no avrei anche loro qui c'è anche una fustellina scallop che non appartiene a questo qui e troverò prima o poi da dove da dove arriva allora vediamo quale può andar bene questo è un pochino troppo grande questa sarà un filino troppo piccola sai che non ho più la lama per tagliare i cerchi devo riordinarlo non chiedermi niente Federica non mi chiedere questa che ho qui è la fustella della Crealis per i cerchi quella che fa i puntini ah guardate vediamo quella leggermente prima che dimensione troppo piccola no proverai questa allora per salvare ti ho detto di scaricartelo ieri ma allora io lo posso scaricare il video forse in realtà lo posso scaricare perché sono l'amministratore della pagina e la proprietaria del video ma in realtà so che c'è un modo per vedere i video offline magari qualcuno che ci sta guardando ce lo sta suggerire io quando apro il video posso scaricarlo magari non tutti possono perché se si è solo utenti visualizzatori no ho dovuto dare la lama a una cliente perché non riuscivo a recuperare un attrezzo nuovo e il suo non andava quindi non ho proprio neanche più l'attrezzino Erika quindi proprio va ricomprato punto tagliamo questo cerchio qua allora mettiamo solo un po' di cosine qui allora bianco prendiamo un aranzo del mio bianco non mi sposto ho qua la big shot di lato la lascio un attimo qua eh ma lei adesso va dove non c'è connessione io non potrei comunque stare non posso dove non c'è la connessione internet ormai sono malata una qualsiasi fustella che vi tagli un cerchio o l'attrezzino per tagliare i cerchi va benissimo guardate questa la mettiamo per esempio no vabbè sono assolutissimamente innamorata absolutely in love allora incolliamo e poi ci mettiamo ad appiccicare perché in realtà poi abbiamo bello che è finito adesso prendo un po' di sana e buona nuvo e attacchiamo potremmo anche spessorarli un pochino questi se volessimo ah vedi quante sono super strutturate la funzione registra schermo brava solo che devi guardartelo tutto prima la donna un po' la donna ma non va neanche la connessione dati Claudia tacconi i cervi sì 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 certo tutti prima che la Germana mi stia male così questo lo mettiamo qui poi questi qua invece sono normali allora la cosa più furba da fare sarebbe attaccare questi ingombri queste decorazioni prima di chiudere la bustina quindi essendo una cosa furba io non l'ho fatta per rimediare a questo inconveniente perché adesso sono tutte chiuse l'idea di rifare tutti i fiocchi mi viene male posso pensare di spessorarlo vale a dire prendo un pezzetto di biadesivo spessorato che dovrei avere qua ah no ce l'ho qui perché gli ho cambiato posto quindi ovviamente non me lo ricordavo ho quasi finito il mio pneumatico di biadesivo adesso lo riprenderemo guardate ne taglio una striscetta e le forbici che uso per il biadesivo eccola qua si erano capottate guardate ne taglio una striscetta faccio questo solo perché non ho avuto l'accortezza di attaccarlo prima aggiungo un po' di colla e lo tengo premuto qui ed è a posto stessa cosa un po' per tutti visto che le ho chiuse tutte perché quando uno pensa in anticipo non è me sono deliziose queste 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 bubbles bubbles così e questo è guardate quanto stacca il bianco su questo colore qui lo trovo bellissimo adesso poi ci mettiamo anche tutti gli abbellimenti tra l'altro su una di queste in tinta unita sarebbe anche carino non me lo sono preparato ma si poteva fare mettere una striscia il wash è chiaro ma un qualcosa in tinta unita scuro che corre adesso magari lo facciamo su quello lì verdino che mi è rimasto un po' di colla gli oxide dipende quali io ti consiglierei di fare il trovalo per me e vediamo perché in realtà tanti oxide sono sold out sono molto difficili da reperire da quando è scoppiata la pandemia lo scorso anno e stiamo facendo un po' di fatica se ci dici quali vediamo se riusciamo a farteli arrivare appositamente usa il trovalo per me ci mettiamo magari qualche giorno a verificarlo ma ok così quindi per questo dicevo sarebbe carino però non ho più vabbè posso fare anche solo una striscetta guardate prendo un pezzetto di questa che è lo stesso colore che abbiamo usato per gli altri ingombri ne taglio una strisciolina alta 2 cm un pollice direi la mia scatolina misura quasi 8 facciamo un pollice e poi piuttosto l'accorciamo se non ci piace fine si molto 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 adesso poi ci penso io a imbruttirle con gli abbellimenti nel senso che le riempirò però volendo si prestano anche una cosina un po' più delicata vedete si io attacco questo qui e poi ci metto questo è vero che se ne vede poco ma fa già tutto un altro effetto così come in realtà potrei attaccarlo qui e mettere il cerchio sopra guardate come cambia lo mettiamo al fondo è bella anche a metà però il cerchio molto grande ne esce fuori poco quel poco che esce a me piace comunque molto dipende un po' dei gusti ovviamente io amo il packaging follemente amo le scatoline i sacchettini quindi sapete che con me questa roba qui sfonda un portone spalancato proprio si Mariana infatti lo metto in fondo hai ragione mi piace di più ecco qua poi abbiamo ancora una due e tre quindi ho questa qui in bianco per questa le carte sì dovrebbero esserci ancora tutte poi nel caso quelle lì se non ricordo male sono sempre ordinabili le abbiamo lasciate sempre ordinabili perché le faccio ristampare se occorre ok e poi abbiamo loro due e poi tiriamo fuori gli apicicchieri così così spellicoliamo allora questa qui la mettiamo qui e un pochino copriamo i cerbiatti che sono o contraire eh vabbè pazienza così guardate che meraviglia questa io la trovo bellissima basta me lo dico da sola aggiustiamo un po' questo fiocchettino che è un pochino svilenchino quando si ribellano così io di solito poi gli metto un punto di colla voilà ok allora dovremmo averle decorate tutte adesso quindi non ci resta da tirare fuori tutto l'appiccicabile che vogliamo metterci e decorarle adesso ve ne metto tutte a favore di camera con un foglio 12x12 di questa misura ne sono uscite due in realtà se tu le volessi fare più piccole Monia avevo pensato all'inizio di fare la misura S che è più stretta questo è storto che è più stretta di un centimetro e farle alte 10 invece che 15 quindi sarebbero venute alte così adesso vi faccio vedere alta 10 sarebbe alta così che comunque non è male e la larghezza sarebbe stata circa 7 quindi una cosina così che per un pensierino sono perfette secondo me e in un foglio ve ne verrebbero 3 vi tagliate la striscia a 10 pollici poi la fettate a 3 a ogni 10 centimetri ogni 4 pollici ed è perfetta più piccina ma quando si devono fare in tanti pezzi ovviamente bisogna studiarsi bene la misura della carta allora dunque ciotolino questi che avevo smaneggiato ieri li svuotiamo tutti qua ok poi sicuramente voglio i paffi perché ci danno quel tocco in più e ho anche magari gli epoxy no perché ho veramente tante cose però i chipboard si stickers e chipboard gli sticker li ho scelti per le paroline per non dover usare un timbro ma se usate un timbro per esempio la parte principale della tagghina che mettete davanti può essere la timbrata e quindi non avete neanche bisogno del foglio di stickers perché di abbellimenti ce ne sono quanti ne vogliamo insomma oppla allora fatemi ragionare di qua dunque i chipboard sono quelli più spessi quindi sono quelli che possiamo usare per dare un po' più di corpo alla decorazione che vogliamo mettere in evidenza per esempio potrebbe essere io avevo visto nella mia testa fin da subito questo arcobaleno le fustelle ho usato la framed rectangles le trovate nel prodotto contenitore la framed rectangles di moda scrap e la bubble circles e poi ne ho usato una di cerchi della creadise che è la 54 se non sbaglio la 41 ma va bene una qualsiasi fustella di cerchi che abbia la dimensione che vi occorre allora questa dove la possiamo mettere guardate qui nasce a fagiolo se hai fatto un trovalo per me dacci solo sì sì siamo un po' in ritardo sempre con il trovalo per me quando l'avete fatto dovete solo aspettare che lo elaboriamo se abbiamo trovato ciò che ciò che vi serve vi arriva semplicemente la mail di conferma che è stato creato l'ordine poi qui ci mettiamo questo il sole torna sempre se lo trovo qui a favore guardate ci metto un piccolo paffi un cuoricino e poi vediamo però vedete già così è a posto e la metto qui poi spargiamo il resto della piccicume in questi set di abbellimenti ci sono tanti bouquet di fiori per esempio il bouquet di fiori all'interno del cerchio è perfetto da solo possiamo mettere lui gli mettiamo un po' di colla al centro così se voglio aggiungere per esempio foglioline in questi abbellimenti ne abbiamo tante posso sempre farlo per dare un po' più di dettaglio adesso questo non si è ancora incollato e quindi l'ho spostato e mi si sta aprendo la scatolina adesso la incolliamo vedete gli diamo un po' di dettaglio così incolliamo la scatolina e qui possiamo decidere di procedere poi con non vuoi stare incollata adesso la tengo un attimo così con qualche altro abbellimento per dare un pochino più di interesse io di solito amo molto mettere le paroline a cavallo della decorazione cerca l'arcobaleno in realtà già solo così sarebbe perfetta per quanto mi riguarda nel foglio di sticker ci sono queste stelline che è sicuramente il grafico che poi me le ha dovute intagliare ci ha messo io appiccico senza pensarci troppo moni è quello il segreto credimi credimi è solo quello questo non mi rimarrà mai attaccato ovviamente adesso se lo pacciocco così certo che due namel ci starebbero benissimo ma mi trattengo assolutamente mi trattengo ci mettiamo però magari non so una stellinina qua che esce da qui no non c'entra niente per quanto tu voglia mettere le stelline ok e questa la posiamo qui e poi vediamo se aggiungere altro qui abbiamo il nostro rettangolino allora nel rettangolino possiamo giocarcela in maniera un po' diversa noi abbiamo sempre tanti bouquet che in realtà vanno benissimo guardate messi così di lato questo magari vediamo se ce n'è uno ecco questo qui con i toni più scuri è perfetto lo mettiamo qui di lato qui ci si potrebbe ci si potrebbe fare una timbrata ma visto che ho preso il foglio di sticker proprio per non dover timbrare io userò sempre gli sticker mettiamo una nuvoletta che io adoro fortissimamente quelle nuvolette di questa collezione mi hanno stregata e mettiamo uno dei sentiment che ci sono scritti qua lascia cadere i rami secchi che è anche quella una lezione di vita che io ogni tanto mi ripeto che devo mettere in pratica due cuoricini che non fanno mai male a nessuno una stellina che riprende quella della nuvoletta ed è a posto se ci pensate troppo se ragionate allora ci sono poi diverse tecniche di pensiero io ho visto delle scrapper bravissime delle amiche che ragionano proprio e pianificano su come creare gli strati di abbellimenti e fanno delle cose meravigliose io penso io mi ci diverto vengono insieme vengono insieme da sole le cose se lasciate correre non ci pensate troppo quando usate questo succede se usate abbellimenti e elementi che appartengono alla stessa collezione è molto facile ed è veramente impossibile sbagliare ragazzi è chiaro che se io invece sto utilizzando scarti avanzi di vecchie collezioni che magari non si coordinano tra di loro studiare un modo per farli sposare insieme è più complicato ma se usiamo prodotti che arrivano dalla stessa collezione è impossibile sbagliare credetemi anche io che sbaglio tanto non si può proprio sbagliare guardate qui per esempio questo è troppo lungo questo qui è un pezzo unico questo chipboard perché non mi piaceva per niente qui possiamo creare vediamo un attimo dov'è l'altro foglietto è qua l'altro foglietto di paffi allora potremmo mettere questo qua così guardate questo verdino col marrone scuro come si sposa benissimo senza pensarci troppo a volte alcune cose non vengono benissimo le si sposta le si muove carta lo scopo di tutto questo è di farci stare bene e di divertirci ragazzi se lo perdiamo di vista è ora di cambiare hobby è quello che vi dico sempre bisogna che con queste cosine qua vi ci divertiate se diventa una gara chi fa le cose più belle c'è qualcosa che non va questo è il mio parere ovviamente personalissimo però trovo che con me funzioni sempre mi ci devo divertire appunto mettiamo qui questa lo ritagliamo un pochino queste scatoline per queste scatoline per queste scatoline se guardi sul nostro sito trovi il prodotto contenitore che altro non è che è un prodotto all'interno del quale trovi link a tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzarlo ovviamente come dico sempre tutto quello che io faccio può essere realizzato con n cose diverse io ho scelto la mia collezione ovviamente perché è appena uscita perché non vedevo l'ora di poterci giocare però si possono fare con n con n altre collezioni quando tagli troppo e poi devi tacconare così così ci mettiamo due stelline piccine picciò in chipboard ed è fatto e via l'importante è che vi faccia stare bene è un hobby è quello che deve fare se inizia a essere uno stress ragazze diamoci al punto croce oh ma guardate messo così così è meraviglioso questo lo mettiamo qui così storto e ci mettiamo come frasetta potrebbe essere la danza dei colori delle foglie profumo d'autunno lo mettiamo qui sotto profumo d'autunno guardate e qui ci mettiamo un paio di cuoricini puffy ho le stelline anche le stelline ho forse i cuoricini non lo so ho fatto troppi abbellimenti adesso scegliere è complicato due paillettes ci starebbero proprio bene però me la sento di dirvi di aggiungere altro allora sapete che io ho un debole per i chipboard quindi adesso stacchiamo questa nuvoletta che mettiamo qui che così mi copre ancora un pezzetto dello scempio fatto vabbè non è successo niente qui in basso allora potrei mettere ho un animaletto piccino picciò che li ho fatti tutti grandi anche se guardate il nostro amico raccoon è magnifico no a scegliere io sto messa malissimo a scelta l'altro giorno mi è arrivata una alla fine per chi mi segue questo profilo personale ho comprato le scarpe e ho anche comprato due borse quindi c'è questo proprio erpeggio non so scegliere tutto questo per dirvi che non so scegliere le piccole cose è carinissima già così guardate ci mettiamo ancora un paffi di questa stellina qua due goccine sarebbero perfette ma anche due paillettine ma non me la sento di appesantire ancora di più il prodotto contenitore allora qui possiamo mettere o un die cut dell'arcobaleno allora in realtà abbiamo anche tantissimi fiori nei die cut che potete sì domani faccio il mini il cuscino il cuscino ce l'ho nel carrello Nadia di oggi vedrai che lo chiudo sì domani faccio il mini faccio il mini ad anelli di Tommaso con questa collezione qua quindi tagliamo le carte non ho ancora scelto i materiali però prenderò le carte pat tenendo un paio di carte speciali un paio di carte basic una da rivestimento per l'esterno e gli abbellimenti penso tutti e Barbara non erano in saldo anzi no le borse in regione erano in saldo no erano in saldo tutte erano in saldo tutto quindi sono legittimata mi stai dicendo ti ringrazio tantissimo perché mi sentivo un po' un po' in colpa in effetti perché poi io non esco mai di qua cosa mi servono delle altre scarpe e due borse vabbè prima o poi ricomincio quest'anno ho deciso che mi serve un po' più di me time il me time è quello che gli americani definiscono il tempo per noi stessi il tempo che dedichiamo anche fosse solo dormire sul divano quindi sto cercando di organizzare il lavoro in modo da potermi ritagliare dei momenti che fossero anche solo per guardare la serie tv ma che mi servono per una per la sanità mentale perché non vendo respiratori quindi posso dovrei potermelo permettere che ogni tanto io sono particolarmente demanding come dicono gli americani con me stessa pretendo veramente tanto e quindi finisco col tirare un po' troppo la corda ma quest'anno ho deciso che bisogna cercare almeno di rallentare un briciolino una nuvoletta vorrei una nuvoletta piccina questa uno sticker l'ho già visto tutto Dexter sto aspettando la serie nuova adesso sto guardando mi sono ordinata i dvd di The Rain in inglese perché non si potevano più trovare da nessuna parte a quanto pare in italiano legalmente servono sempre è vero Emily assolutamente quindi sto guardando quello nei momenti in cui sono un pochino più reattiva perché comunque nonostante io parli molto bene l'inglese questi hanno un accento british che io faccio fatica a comprendere e la sera comunque sono molto stanca e sono abituata a guardare la tv come sottofondo ma arriva Lucifer arriva la casa di carta arrivano un sacco di cose e poi sto ho iniziato a vedere click click bite una cosa del genere su Netflix che è molto carina ho macinato un sacco di serie in questa settimana non mi piaceva niente allora vogliamo non mettere no perché dice l'altro potremmo mettere fatemi spulciare qua nei die cut sono carine vero Rossella i die cut sono stati pensati per più per progetti variegati quindi ovviamente non tutti vanno bene per le scatoline guardate questa sarebbe meravigliosa ma li ho fatti tutti con i fiori vediamo se mi viene qualche idea brillante beh potrei usare questi potrei usare lui che è la rennina della carta potrei metterla qui sotto potrei prenderle delle nuvolette che avrò guardate questa anche per Natale le potete fare la scatolina in sé secondo me è super versatile potete farla anche per un'occasione che può essere un battesimo una festa di classe quando si lasciano i ricordini così sono veloci sono belle potete farle tutte diverse per esempio se sono bambini è facile sfruttarle al meglio secondo me questi attrezzini sono sempre molto molto utili io trovo che insomma una volta che si impara ad usarli la misura più grande la M ti fa la base di circa 9 cm aspetta mi sembra 9 qua 9,5 9,3 una cosa del genere altrimenti li dicono lo pensavo con le carte tutte diverse poi l'altezza in realtà la puoi decidere tu qui mi ci manca il sentiment che potremmo mettere sogna colori che potrei mettere allora se questo lo sposto un filino più in alto questo ma mi c'è una cosa più a contrasto però che potrebbe essere autunno nel cuore guardate lo mettiamo qua sotto così lo copriamo quella bellissima cornice marrone che mi piace tanto e abbiamo finito mi sono avanzati ovviamente un sacco di appiccichini ragazze gli epoxi non ho cuore di aprirli perché è troppo pure per me questi adesso prendiamo dovrei avere qui le mie bustine da 30 questa cosa che ho messo a posto e non trovo più niente non mi piace qui c'è quella gente eccola qua no vabbè adesso la cerco una delle bustine dell'anticamera del paradiso dei ritagli e ci metto questi avanzi questo qui lo possiamo mettere in una piccola di dai tacchi così non li perdiamo e dopo chiediamo a madre dove ha messo tutte le altre cose allora questi li infiliamo qui dentro andava bene anche una più piccola ma mi è capitata questa poi tutto questo lo mettiamo nell'avanzo dove metterò tutti gli avanzi di questa collezione qui così quando ci lavoro per me è un po' difficile tenere gli avanzi nel senso che quando vi presento un progetto devo sapere esattamente che cosa serve quindi se vado a pescare dai rimasugli già l'elenco di prodotti che vi ho fatto non va più bene e quindi è uno dei motivi per cui anche uno dei motivi per cui tendo a non usare tantissimo gli avanzi perché poi è difficile per chi vuole riprodurre i progetti poterli replicare con l'elenco dei materiali corretti allora tu ti sei staccato ma adesso ti mettiamo un briciolo di colla perché questa cosa della decorazione sarebbe stata più furba farla una volta prima di montarle ma vabbè mica si può essere sempre furbi intelligenti per esempio adesso che ho perso il tappo della nuvo no che chissà dov'è vabbè lo rapiremo da un'altra parte vabbè allora mettiamo via un secondo questi eccolo qua guardate sono salva queste adesso li tengo ancora qui e poi tra un po' si farò farò delle bustine che metteremo nei pacchi magari in realtà ne avevo già preparata una ed era quello che volevo mettere all'interno di queste bustine qua ma madre non sa più dove le ha messe e vabbè allora queste sono le mie scatoline non posso szoomare vediamo se riesco a renderlo un pochino più e che sai che cosa che chi guarda i miei video sa che magari metto gli avanzi i miei ritagli nei pacchi tu pensa uno che magari su facebook non mi segue voi pensate uno che su facebook qualcuno che magari su facebook non mi segue che mi trova dal sito che è nuovo che è appena iniziato a conoscere il negozio se si ritrova nel pacchetto una bustina di avanzi magari la prende pure male no ho fatto anche questa pensata io tra una roba e l'altra allora la borde è carinissima sì 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 il tappo delle forbici io adesso mi sono costretta ad averlo perché questa qui è la forbice con cui sdereno le fustelle in attesa di avere una tronchesina decente questa è la forbice nuova buona che non devo rovinare i bambini la colla ho dovuto segnarla perché tutte le altre sono intruppate perché continuo a tenere sul tavolo è poi un mistero allora queste sono le scatoline questa è la nuova collezione la rainbows and clouds è assoluta sì sì ci sono nel bundle nel bundle c'è praticamente tutto Rossella c'è anche di più nel senso che ve l'avevo chiesto ma chiedere a voi senza offesa è come chiederlo a me stessa se mettervi anche i nuovi acetati delle nuove linee i dots i basic dots i basic stripes alla fine ho messo dentro anche quelli nel bundle di questa collezione qui c'è tutto ci sono i tre pad di carte quindi il pattern e il tinta unita e le speciali ci sono i sei acetati delle nuove linee delle nuove linee ci sono c'è il foglio di sticker di chipboard gli ephemera gli epoxi gli enamel dot il wash le paillettes e sto dimenticando sicuramente qualcosa che non sono matta perché che non sono matta non è esattamente veritiero non sempre allora io sono ovviamente di parte nel senso che l'ho messa insieme io questa collezione nel senso che mi sono innamorata di questo pack di grafica e ci ho creato intorno tutto questo io non disegno nulla lo dico sempre in maniera molto molto trasparente non c'è niente di male anche i grandi comprano i grandi grandi brand comprano grafiche io prendo quello che mi piace e lo trasformo in qualcosa con cui giocare il lavoro che faccio è questo non sono né una grafica né una designer sono una scrapperina che ama fare delle cose appunto che ama crearsi dei giochini dei giochini ad hoc questa collezione qui mi aveva colpito tantissimo la mazzetta me la sta forando penso che metà settimana sia pronta queste grafiche qui mi avevano colpito tantissimo e quindi avevo deciso che sarebbero state le mie carte d'autunno io amo da morire i colori d'autunno l'autunno è la mia stagione preferita amo i marroni amo i gialli i caldi amo gli aranci ce ne sono in abbondanza degli altri brand e quindi ho detto vabbè dai quest'anno quest'anno ci faccio qualcosa provo a fare qualcosa di diverso poi magari non piace non lo so io racconto storie sì credo che lo scrap a questo serva il fare memoria è raccontare un po' la storia di noi stessi quindi ci serve qualcosa che ci aiuti in questo ci serve qualcosa che ci aiuti a svuotare la testa ci serve qualcosa che ci aiuti a vedere il bello in questi ultimi due anni in particolar modo ne abbiamo avuto veramente tanto bisogno ci serve qualcosa in cui non ci siano regole particolari da seguire dove non ci siano gerarchie dove non ci siano scadenze abbiamo tutti un lavoro una famiglia degli obblighi della responsabilità che ci portano insomma a dover ottemperare ad una serie di obblighi scritti non scritti importanti questo deve essere uno svuotatesta uno svuotatesta che ci fa anche raccontare storie la nostra storia è la storia più più importante sapete quanto per me è importante fare memoria documentare non sempre nella mia vita ho fatto tante foto me ne sono pentita ma ci sono quegli anni in cui proprio non ti vedi ti vedi brutta va tutto male va tutto storto e quindi foto magari non ne fai adesso faccio foto in ogni momento ci vuole solo più tempo è vero un po' bisogna anche imparare a tagliarselo questo tempo io sedo retta non mi muovo di qua cioè non mi muovo dal negozio adesso sto veramente cercando di organizzare il lavoro in maniera da poter respirare un pochino di più e poter avere più tempo anche per raccontare queste storie oltre che per sopravvivere e non finire incarcerata perché magari sbraito contro corrieri fornitori o cose strane e ci serve ci serve quel tempo per noi stessi è quello che gli americani chiamano il me time quando si seguono a me è capitato di seguire diversi corsi al creativation con gli americani quello che loro sottolineano tanto è il bisogno di avere questo me time che può essere andare dal parrucchiere che può essere andare a correre che può essere scrappare che può essere fare un centrino all'uncinetto ma è veramente di vitale importanza avere quel po' di tempo per noi stessi ce lo dobbiamo diamo tanto tempo anche a volte perdonatemi se lo dico a chi non se lo merita noi ce lo meritiamo tutto quindi vado faccio le foto se per caso madre trovasse la cartellina degli avanzi che avevo che avevo preparato amorevolmente perché è di famiglia questa cosa che spostiamo le cose e poi non le troviamo più magari li distribuisco se no faremo delle altre cose domani userò questa stessa collezione perdonatemi appena uscita ci gioco un po' anch'io faremo un mini album con il quadernino 4x4 di Tommaso e io sono innamorata di questo mood di colori quindi insomma sono molto contenta diciamo che dai commenti dagli acquisti così mi sembra che sia piaciuto molto anche a voi ne sono molto contenta e fatemi sapere se la usate fateci vedere che cosa fate adesso pubblicherò questo evento se ce la faccio lo faccio domani devo fare un sacco di cose domani creerò questi album con la collezione di Natale adesso anche con questa per Marika si si farà tra l'altro vi dico solo che ho visto il progetto che ha fatto con le carte della mia ricetta per il Natale e alzo le mani alzo le mani completamente e vi dicevo creerò questo evento dove creo questi album di questa collezione qui e della collezione di Natale dove potete postare i lavori che avete fatto i video se volete e magari poi ne scegliamo uno da rifare in un live magari chi l'ha fatto mi dà una mano in diretta insomma e cerchiamo di riprodurlo così che possa essere uno spunto un tutorial un po' per tutti sapete che io non faccio tutorial la maggior parte delle cose che faccio le improvviso quindi e spesso e volentieri le sbaglio e devo poi tacconarle quindi insomma però seguo volentieri quelli degli altri ecco fanciulle io per ora vi saluto ci vediamo domani mattina intorno alle 9 non vi preoccupate se non vi rispondo a messaggi mail tra oggi e domani riprendiamo lunedì anche tutti gli ordini che non sono stati gestiti fino ad ora verranno gestiti lunedì e nulla buon sabato pomeriggio ciao 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 ciao